Enrico e Jamal, 7-8 anni, hanno raccolto a scuola 107 firme con cui chiedere al sindaco di Napoli e ai napoletani un maggiore impegno ad usare meno plastica e stamattina in piazza municipio, tra i lupi di Liuru Wang, hanno convocato un flash mob per sensibilizzare i cittadini sull'argomento, dopo aver invitato tutti a fare un cartellone o portare un oggetto di plastica di cui si può fare a meno, per dimostrare che si può vivere senza plastica.